Cappuccio, complimenti, un buon primo tempo, state vincendo 3 a 1, cosa vi serve nel secondo tempo per chiudere la partita? A me il centro non si sta piacendo molto come stiamo giocando, stiamo puntando un po' troppo sull'individualità e giochiamo poco di squadra. Se voi dovremmo giocare un po' meglio dal punto di vista fisico e cercare di giocare un po' meglio dal punto di vista della squadra, perché loro comunque ci sono. Bocca all'ubbocca. Grazie, Clevi. Meglio indiferenza, abbiamo preso 2 con il buchi difensivo, però dobbiamo finalizzare anche, abbiamo tirato poco, abbiamo tirato un po' di più. Buongiorno, siamo qui nel posto partita che ha visto affrontarsi Roma contro Palermo, la partita è finita 7-1 per il Palermo, abbiamo qui 2-1 in campo Sorrentini e Mangieri. Abbiamo una squadra che è uscita un troppo sconfitta Sorrentini, diciamo che oggi avete fatto una brutta prestazione, anche perché calcolando le prestazioni precedenti, comunque è uscite comunque una squadra forte che combatte ogni partita, oggi ce l'avete fatto. Guarda, non so che è successo oggi, ma le partite scorse, anzi, perché comunque una squadra che ci siamo conosciuti quest'anno, quindi dalla prima partita non è che siamo, però comunque dopo ci siamo quadrati un po' in campo, oggi non lo so che è successo, siamo scesi in campo senza cattiveria, non correvamo, loro sì erano più forti, però era bravo soltanto lui, cioè secondo noi gli altri non meritavamo questa sconfitta, cioè se non c'era lui questi 4-10 partite erano tutti in pace. Siamo un calo fisico. Guarda, non ho parole. Sorrentini, a chi vuoi dedicare questo tuo un bier in campo? Lo dedico al mio zio Biagio. In bocca al po' per poter vedere. Previ. Mangieri, complimenti a una buona partita, un'ottima prestazione da parte tua, tutta la squadra ha già avuto bene, vi siete meritati questa vittoria. Che dire, giocate bene, giocate palla a terra, tu hai fatto delle punizioni magistrali, complimenti. Potevate forse evitare quel piccolo calo quando avete presso il gol, però poi vi siete interessati. No, noi siamo una squadra che si è conosciuto facile per poco tempo e stiamo in formazione. Ovviamente. Vabbè, comunque voi siete da poco che state giocando insieme, quindi comunque vi siete amalgamati in bene, insomma. Sì, no, non lo so, no. Siete bravi, no? No. Siete stati bravi oggi? No, no, tutte le squadre. A chi vuoi dedicare questo tuo migliore in campo? Al cortiero. Al cortiero? Al cortiero. In bocca al lupo per il preseguo del torneo. Vai ragazzi. Alcune! Alcune! Alcune!